Allora, intanto abbiamo fatto tante partite in pochi giorni, comunque oggi mancavamo di giocatori importanti in questo momento, che stavano facendo bene, di Carmine e Bois, quindi ovviamente ci sono stati gli infortuni in un momento che per noi era importante, perché questa partita era importante. Io probabilmente ho esagerato nel preparare i ragazzi a questo tipo di partita, perché solo se sei stato da quest'altra parte puoi capire cos'è Messina-Catania dalla parte giallorossa. E probabilmente forse ho esagerato in eccesso, anche se devo dire che il grammarico più grande è che ci è mancato nei momenti topici della gara, da fare gol a non farlo, addirittura subirlo. Ovviamente è stato tutto molto più complicato, perché se al primo tempo ci sono stati due salvataggi sulla linea, uno sul tiro di Marsura, uno sulla rispinta da traversa, il colpo di testa. Lì una squadra pratica, una squadra cinica, va in vantaggio, rischi di chiudere il primo tempo in vantaggio, poi diventa tutta un'altra partita. Sei te che magari riparti e il Messina che cerca di aprirsi e quindi potrebbe diventare interessante. Invece poi avete visto addirittura come abbiamo preso il gol, è chiaro, io sì, sono d'accordo che magari la squadra nel secondo tempo ha avuto, da un punto di vista emotivo, sei un po' smarrita. Nel primo tempo però no, noi abbiamo vinto diversi contrasti, soprattutto in mezzo al campo. Per quello che era possibile fare anche in questo campo, secondo me nessuna delle due squadre penso avesse delle valide motivazioni per prevalere sull'altra. È una partita che probabilmente sarebbe finita in pareggio se non avessimo commesso quell'ingenuità.